eccoci qua siamo in questo gameplay un po diciamo più particolare stiamo giocando a come si dice a slender tablis e mi sono appena fatto delle celate di paura cacchio ci sono appena fatto delle celate di paura abbiamo il nostro gianluca che come testimone e ho l'impressione che mi sta venendo qualcuno dietro che sto morendo tuo che punto sei ho preso la mia pappa pure io spiega l'obiettivo di questo gioco morire e non praticamente lo scopo e di ecco io morire già foto allora il trucco dove quante ne sono otto dieci 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 ok un cadavere via andiamo via io sto a due pure io annaggia oddio chi è qui se vedo un'altra foto sono morto ma che c'entra che muori per le foto perché se viene una foto viene anche il mostro davvero? molto probabilmente più foto ci sono e più c'è probabilità di muore ma che vedo un cadavere della spiaggia pure io ci sono passato alla spiaggia ci sei ? sono morto non vuoi cambiare sono ancora vivo mi sto vedendo dietro aiuto che faccio mi sono gelato usate la tecnica del coniglio dove vado ho visto la foto di un impiccato recentemente sono nella cacchio no non posso entrare se no quello mi appare dal tetto ragazzi vi sto facendo sotto ragazzi preparatemi per un urlo di di gay no io più che altro dimostro paura di lui no io ho paura dello strello capisco pure io però guarda che io ho più paura di te e che strello ho detto nella notte ragazzi vi sto facendo una confessione se io non dovessi oddio santo maledetta foto dicevo se io non dovessi farcela voglio ricordare che la pasta di Giovanni era troppo buona oh cacchio io sto andando addosso ok sto girato uno tu quante quante ciotole sei tre pure io io mi sta venendo dietro che cazzo io ho paura di averlo dietro ma di sicuro ce l'abbiamo guarda non ti vuol stare io ce l'ho perché lo vedo semplicemente e vabbè per la tecnica che ti ho detto ma ti posso dire una cosa eh non ti vuol stare grazie per il consiglio ma la mia paura io mi volto perché la mia paura è che quando mi volto può darsi che gli vada addosso perché non mi giro mai completamente io sono a tre e già sono morto sto morendo io sono a quattro dove l'hai trovata la quarta? no lo so guarda io sto solo seguendo una strada cacchio oddio dove sei? io no quell'altro ancora un'altra foto inquietante finora non ne vedo nessuna grazie al cavolo mi sta bene dietro io sto seguendo sempre questa maledetta strada ma non è che arrivo io invece mi sa che sto facendo il giro della strada perché oddio 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 non so dove sono non so dove è andato corro corro mi muovo oh una ciotola sono a quattro tu? quattro 4 su dieci ragazzi ce la devo ma come quando arrivi a 10 ma sembra che sto girando in tondo sto dimostrando a spiaggia quando arrivi su dieci che succede? e non lo so che da gli abbiamo vinto lo spero perché io sto morendo mi sto pisciando sotto la prossima volta che metto il pannolino ma dove ti avevo il pannolino? dove ti avevo il pannolino? chi è? ma se tu spegni la torcia quello ti viene dietro comunque eh no guarda ti viene davanti oddio c'è un'altra bella foto un'altra bella foto un'altra bella foto inquietante guarda spegni a due secondi guarda che succede eh l'ho spenta e accendia oh cacchio sono oddio oddio sono ritornato e che succede? niente dove sei? sto scappando dalla casa una ciotola si trova sulla casa ma io non ci voglio entrare ma neanche io guarda se è per questo perché entro nella porta me la ritrovo dall'altra porta vabbè ma questo è tipico del gioco slender io vi dico in questo gameplay faccio schifo come vedete però eh bagato se io avessi un fucile sono bagato no quei bug sono letali cacchio sono su una montagna che ci faccio su una montagna? ok non più non sono più bagato questo sarebbe bello da giocarci a mezzanotte a luci spenta oh cacchio qua ci sono già passato c'è un cadavere no non c'è più sempre lui io dovevo il coso ragazzi quando posterò questo video su youtube commentate scrivete come si può giocare online insieme a qualcun altro perché io non ci sono riuscito non ho capito ma ci sono tutte le istruzioni in inglese se ci dite come fare vi ringraziamo sto tremando ma non ci vede niente niente io vedo qualcosa però a me è solo la parte di sotto tra poco io mi arrendo perché non trovo manco una adesso io non trovo più la strada figurati oh cacchio sto andando addosso tu come fai a non voltarti a me ci viene la voglia di voltare curiosità non voglio che lui isgrito sono a 5 sono a 5 mi sta correndo dietro sono a 5 oh cacchio per me shift per correre lo sto premendo ma più veloce di me noi ho colorati dei trasporti grazie che più veloce ti test oh cavolo ma di tutto ma sai che ogni volta che prendo qualcosa diventa sempre più veloce e gli alberi sai com'è si muovono e non basta lui o le foto del cacchio la mappa non mi serve a niente perché non dice dove sei ecco un'altra ciotola no no sono a 6 ecco sono su una strada però ci sono dei cartelli che prima non c'erano cartelli che dicono oddio minimo niente meglio che non te lo dico che cavolo è questa strada non c'era prima tu quanto stai? 4 ho di nuovo questa casa prima o poi io ci devo entrare entraci ma mi sta venendo dietro quel cacchiarone di fantasma blu oh io lo devo fare ragazzi sto morendo ragazzi oh cazzo cazzarone oddio la spirapolvere aiuto aiuto chiedo aiuto aiutatevi per favore sto morendo oddio ne ho presa 7 sono a 7 ragazzi sono a 7 dai che ce la vuoi fare oh cacchio troppo vicino troppo vicino troppo vicino ragazzi ti fate per me sono a 7 sono a 7 una montagna non l'ho mai vista sono a 7 ma mi segue ma in una maniera impressionante c'è una faccia guarda cazzarola oddio oh cazzo cazzo un piccolo ho preso una strada chiusa no sai il brutto è quando prendi le strade chiuse tu sei a 5 sei a 4 ancora 5 è la mia prima volta se vincerò questa volta va lì va lì Leo mi devo voltare no non farlo sono andato a finire in una strada chiusa perché c'è la pappa la pappa bene io mi trovo con un palo a terra no in questo posto ci sono già stavate quindi io devo fare il giro sì 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 sono un grande sei a 5 l'ho superato perché non l'ho visto ho visto a terra tiè io sto facendo il giro della strada vedendo se è stato aggiunto qualche altro pezzo però ma nella casa quanti ce ne sono 2 o 1 1 credo credo 1 eh sì no perché io non sto a vedere più nessuno qui nel bosco io sto a 5 ma la fine tu ha 8 io ho 7 ma sei entrato già nella casa sì però ho fatto appena in tempo a prenderne una sono scappato subito non ho potuto dare un'occhiata mi stavo addosso come il diavolo facevo quante volte ti ha urlato? una e mezzo oddio io 0 maledetta foto io avrò la 0 guarda mi sto cacando sotto è il mio primo videogioco dove mi sto cacando sotto voltati lo vedi? dietro di te? c'è? non c'è? secondo me non ti sta a seguire nessuno eh guarda usa la tecnica che ti ho detto e guarda come c'è qualcuno che ti segue eh sono troppo sto correndo adesso oh male madonna mia queste strade chiuse ragazzi eh ho l'impressione che devo entrare di nuovo nella casa ma la so il bello è che questa mappa non dice dove sei capito? ma quando il fantasma ti colpisce una volta cioè quando ti urla come se perdi la vita no? eh si una specie ma quando scappi la recuperi no ok allora un altro stride sono morto ma io sto facendo in cibo ma non è lo strillo che proprio ti va a morire più anche se lo vedi poi ti tu muori no perché appena ti si avvicini ti teletrasporta prima ti appare dietro poi ti appare a destra poi ti appare sinistra poi ti appare sinistra il mio viola si sta arrabbiando perché ogni volta perché devo prendere una pappa e o come si chiama e mi volto e non lo vedo si sta arrabbiando e mi sta mandando un milione di foto ancora a me a me c'è molto vento sto per veramente cacarmi su tranquillo problemina che fischio e vero io non sceglierò mai più questa mappa no guarda neanche io io te l'avevo detto faceva almeno fuori quel pomeriggio eh ma io dovevo tentare mi spira ma tu perché sei morto no no sono vivo però sono in un posto no no non mi direi che una via chiusa io farò oh devo trovare la casa che forse c'è qualche ciotola lì a quanto stiamo io sono 7 sono 7 dai 6 5 guarda che tengo un'altra possibilità se tu mori ci sono ancora io oddio mio ci sei ancora tu sì però immagino quello che vorrei dire capisco a proposito tu ce l'hai frappso così la pure registrare quindi eh guarda scarica scaricati frappso così pure registrare altre tabulate ne parliamo dopo io so 6 non mi dico il recuperi poi io sono ritornato sulla strada però c'è quello viola che strilla io che mi perdo mi sto per arrendere però se siamo a 7 no calcoliamo 7 quale 1 nella casa i restanti nel bosco eh ma poi la c per accucciarti cioè non serve a tanto sto a 7 dove l'hai trovata? eh no sto sempre nella foresta sperduta ora se trovo la casa e ci entro ma con difficoltà sto a 8 e ti supero ecco ma perché mi ritrovo sempre nella spiaggia? la casa non si trova vicino alla spiaggia eh no più lontano infatti ma anche io mi ritrovo sempre vicino alla spiaggia e questo è strano oh cavolo sono nella riva eh io sono io so nella casa no io non la riesco a trovare dove diamo attendo che quello viola la nella casa ti è più un mazzo alza un po' il volume così almeno sentiamo anche tu quando morirai sono vivo sono vivo sono vivo leo leo dica non muo- cioè non sto- sto morendo io ma non nel gioco perché io tu già sei nella bara grazie gentilissima ormai uno più gentile di te oddio 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 sono tra le rocce delle montagne eh aspetta ma e se si trovasse tra le rocce delle montagne guarda che si trova una nelle rocce delle montagne geniale e perché mi è venuto in mente solo adesso quindi perché sono un altro perché sei intelligente oddio sì mi sono mi sono ho visto una cosa eccola eccola un'altra sì otto 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 ragazzi ragazzi sono otto mi sta venendo dietro oddio mi sta venendo dietro oddio 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 ragazzi otto ragazzi otto sì basta momento serietà allora tecnicamente hai sentito qualcosa no guarda solo degli strilli eh solo degli strilli ma come ci sei arrivato ehm non lo so guarda tra le rocce quante ce ne sono una una perché vuoi essere tanto soddisfatto cioè vuoi troppo no voglio vincere almeno una ah guarda sei ancora vivo non ci credo tu sei morto no guarda sto a otto e neanche uno strillo ah ma voglio strilli pure io no ma io neanche uno strillo zero ma perché lanciano ste foto inquietanti che vengono all'improvviso cacchio 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 siamo a tre striglie siamo a tre striglie non so se l'hai notato eh lo so ragazzi guarda che lui sta a tre striglie io sto a zero sei no non ci sono sto a nove ragazzi sto a nove io quanto sto cacchio ho l'impressione ragazzi sto a nove eh me ne manca una dove l'hai trovata l'altra non lo so guarda sto nella strada sempre nella strada oddio no nella casa oddio mi sta venendo dietro qui dietro è attaccato 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 qua dietro attaccato qua dietro attaccato qua dietro è attaccato non mi sta uccidendo ma è un po' incavolato sei morto? no sono vivo ragazzi avete un nuovo campione ho vinto che succede quando hai preso dieci? niente you win io I lost bene questo è il video dimostrativo che perderò farò altri tre minuti se non ne troverò manco una mi arrendo e mi faccio ammazzare io ti sento solamente perché ho vinto eh ma va dove l'hai trovata l'ultima? eh dove sta l'impiccato rosso dove sta l'impiccato? eh? dove è l'impiccato? da nessuna parte e allora hai detto l'hai trovato dove sta l'impiccato quello rosso? ah eeeh non lo so sempre nella strada tutte quante sono nella strada sono morto ragazzi ho finito sto sopra però vassa vassa